Benvenuti nel mondo degli orologi Narika. Narika è un marchio di orologi e abbigliamento fondato a New York City nel 1983. Da allora, il marchio ha guadagnato una reputazione di alta qualità per i suoi prodotti dedicati alle attività all'aperto e al lifestyle casual. Gli orologi Narika sono disponibili in una vasta gamma di stili, dal classico al moderno, e sono progettati per resistere alle condizioni avverse, come l'acqua e i raggi del sole. La gamma di orologi Narika comprende modelli analogici e digitali, molti dei quali dotati di funzioni avanzate come il cronografo, il tachimetro e la resistenza all'acqua fino a 100 metri. Sia che tu stia andando in barca o semplicemente passando del tempo all'aria aperta, gli orologi di Narika sono la scelta perfetta per chi cerca un prodotto resistente e funzionale, senza rinunciare allo stile. Narika è un marchio popolare in tutto il mondo, con una forte presenza negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. Grazie alla sua reputazione di alta qualità e alla vasta gamma di prodotti offerti, Narika è diventato un marchio di riferimento per gli appassionati di orologi e abbigliamento casual. Grazie. 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 Grazie.